scopriamo insieme il modulo school ed per prima cosa dovete scegliere dove saranno ambientate le vostre avventure e anche il tono che vorrete dare alle vostre sessioni di gioco in particolare le vostre avventure per questo modulo dovranno essere ambientate nella città di new york il tono invece è una scelta che potrete fare voi potete scegliere un tono più umoristico alla kickass o seguire i fumetti o i cartoni o i film che vi piacciono maggiormente come ad esempio uno stile marvel o piuttosto che uno stile dc la scelta è vostra e dovrà essere concordata da tutti i giocatori fate attenzione quando nel manuale troverete scritto giocatori in miuscolo sta a significare che si riferisce a tutti i giocatori quando invece troverete scritto giocatori con la g maiuscola si riferisce solo ai giocatori che hanno un personaggio quindi è escluso il game master una volta vista la locazione una volta definite questi elementi iniziali per poter iniziare a giocare passate alla scelta dei supereroe questo modulo prevede quattro personaggi pre creati rispettivamente aaron l'alieno jeanette materia carol vegas redshift e matt x 33 noterete che a fianco ai nomi troverete anche i nomi degli archetipi in questo caso vediamo per esempio aaron che di archetipo la maschera trovate una breve descrizione di questo personaggio ma poi trovate le schede dei singoli supereroi a fondo del manuale andiamo a vederlo e vedete che questa è la scheda completa scheda completa che va guardata in questo modo si guardano prima i dettagli dell'archetipo bene perché si capisce un pochino la storia di questo personaggio si guardano tutti gli elementi che vanno a personalizzare l'archetipo che sono senza la maschera quindi cosa siete senza la maschera supereroe ovvero quali sono i vostri poteri e la debolezza questi elementi tutti insieme costituiscono il vostro archetipo quindi tutto questo è relativo all'archetipo poi avrete un obiettivo di vita qualcosa che volete fare quando diciamo non siete impegnati nelle vostre missioni nella vostra vita normale i vostri obiettivi personali è un oggetto speciale che di solito è qualcosa di particolare che vi dà delle possibilità aggiuntive durante il gioco poi controllate i legami di vita e vi ricordo che i legami di vita sono i legami con i personaggi che non sanno della vostra identità segreta e poi in un'altra fase adesso andremo a vedere dovremmo andare a creare il legame supereroe torniamo alla dopo la scelta del supereroe vedremo che dobbiamo andare a completare il personaggio e quello che ci viene richiesto è proprio quello di creare il legame supereroe la creazione del legame supereroe deve essere fatta all'inizio della sessione cioè una volta che avete scelto i vostri personaggi e quindi i giocatori hanno a disposizione la scheda del proprio personaggio ecco che dovete andare a crearvi un legame fate partire il primo giocatore alla destra del game master o alla sinistra sceglie il game master in questo caso e successivamente quel giocatore dirà ok io ho conosciuto l'alieno l'ho conosciuto perché ho perché praticamente sono andato a parlare con lui e quindi che cosa è successo perché ci sei andato a parlare beh ci sono andato a parlare perché io sono matt x 33 sono frutto di un esperimento e quell'esperimento è stato fatto utilizzando la tecnologia della nanotech mi hanno trasformato in un essere che si trasforma in energia pura e questa cosa ovviamente volevo capire meglio che cosa cosa fosse successo se potevano curarmi e qui chiaramente i due giocatori quindi il giocatore di matt x 33 il giocatore che sta interpretando l'alieno iniziano a parlare tra di loro e si mettono d'accordo sul motivo per cui si sono conosciuti e si sono incontrati a questo punto quando matt x 33 ha finito passa al giocatore successivo alla sua destra fino a quando tutti i giocatori e quindi tutti i personaggi non avranno un legame supereroe con qualcun altro ora non è che non potete conoscervi tutti quanti potete conoscervi tutti quanti come supereroe anzi all'inizio partirete proprio insieme quindi vi conoscete tutti quanti però è chiaro che avete il legame con solo un altro supereroe perché il legame è come volervi dare un valore aggiuntivo quindi lavorerete insieme collaborerete insieme ma con quella persona in cui avete questo legame supereroe ovviamente avrete un legame più forte il legame poi va comunque strutturato in questo modo se state creando un legame supereroe una volta che avete specificato bene che cosa è successo e perché vi siete legati andrete a definire che cosa pensi di questa persona di questo legame e che cosa vorresti ottenere da lui perché poi quando ci sarà modo porterai avanti questi due concetti e nel tempo ovviamente le vostre conoscenze andranno a saltarsi o anche separarsi alcuni casi e vi permetterà di vedere l'evoluzione del legame stesso a questo punto il game master insieme al gruppo normalmente inizia a creare quello che è il villain per questo primo capitolo il gioco è diviso in capitoli potete giocare tanti capitoli chiaramente questo qui che è un modulo iniziale vi permette di giocare la prima missione all'interno di un capitolo la creazione del villain è abbastanza semplice l'importante è che i villain non siano mai solo dei cattivi devono avere uno scopo secondario in questo in questo quick start ovviamente vi andiamo ad offrire school head che è già pronto è un villain che ha visto un futuro apocalittico che colpirà la città di new york quindi qualcuno che in qualche modo ha avuto una visione dice visto che new york e morirà esploderà e dice che tutto quanto inizierà all'interno dello empire state building e quindi il suo cervello pensa se io prima dell'evento distruggo l'empire state building non potrà mai succedere quindi non ci sarà l'apocalisse è chiaramente una cosa folle ma di base notate che ha uno scopo maggiore che non è malvagio questa è la cosa importante school head lo dovrete descrivere quindi magari è una maschera di un teschio è una lunga tonaca nera sotto la quale nasconde la divisa di un corpo speciale della polizia il suo carattere è quello del paladino ma senza alcuna remola per raggiungere i suoi obiettivi school head non è solo ma ha accumulato attorno a sé un grande numero di gregari che lui chiama i portatori del messaggio intossano una tonica bianca e una maschera nera sulla quale è stilizzato all'ombra di un teschio e inoltre è seguito da un villian in questo caso secondario che si chiama testa di ferro che afferma di essere un esperimento fatto dalle forze armate per creare super militari che possono contrastare i super criminari qualcosa deve essere andato storso nel processo di trasformazione e oltre aver potenziato il suo corpo oltre a un limite umano è privo di fini inebitori che lo rendono violentissimo odia profondamente le forze armate che l'hanno tradito e vuole distruggere il sistema vedete vi dà tutta una serie di elementi che ora potrete andare a utilizzare per avviare la sessione nella prima missione cosa dovete fare dobbiamo scegliere in questo caso uno dei seguenti spunti c'è qualcosa che school head tra virgolette inizia a fare per cercare di raggiungere il suo obiettivo finale è chiaro che non può arrivare direttamente all'obiettivo finale ci arriva per step quindi cosa succede che dovrete dare un primissimo obiettivo e poi mano a mano farlo avvicinare a cercare di raggiungere il suo obiettivo che magari è quello di distruggere l'empire state building quindi qui trovate tre spunti a disposizione potreste crearne anche voi uno prendendo ispirazione da questi e andando un pochino a modificare come come è definito per esempio ne leggiamo uno school head manda testa di ferro un villain minore e portatore il messaggio a rubare tecnologine aliena nei laboratori segreti della nanotech uno smaterializzatore che vuole usare per distruggere il grattacielo quindi vuole andare nell'azienda dell'alieno quindi se questa in questa avventura è presente il personaggio dell'alieno chiaramente è un ottimo modo per collegare i villain ai supereroi quindi è già un ottimo aggancio per iniziare diciamo una prima missione e spingere anche i personaggi chiaramente ad intervenire a questo punto l'avventura inizia l'avventura dovrebbe iniziare soprattutto quando è proprio la prima parte di questa missione di questa di questa avventura che state affrontando in una scena di conflitto perché perché deve mettere subito in gioco i vari personaggi permette comunque di apprendere iniziare a provare immediatamente le meccaniche del gioco e poi chiaramente giocherete con i vostri tempi e seguendo diciamo la struttura di i got power completo per esempio una cosa interessante che dovrete andare a definire il motivo per cui vi siete accorti di quello che sta succedendo beh nel caso dell'avventura nei confronti dell'alieno potrebbe succedere che tutti i personaggi per qualche motivo siano adesso nell'azienda dell'alieno magari anche di notte perché stanno iniziando a parlare di quello che è successo stanno discutendo di quello che che hanno scoperto diciamo sulla loro vita e mentre sta succedendo questa situazione in cui parlano in cui discutono in cui praticamente si sono creati questi collegamenti ovviamente c'è l'attacco da parte di testa di ferro e e dei suoi gregari ecco è importante magari per la prima scena non portare subito sculled nella missione ma chiaramente potete anche farlo questa è una scelta che dovete cercare di decidere voi e vedere voi a questo punto una volta che praticamente la missione si avvierà e quindi ci sarà questo ingresso nell'azienda si inizierà a raccontare quello che succede ci saranno sicuramente i primi conflitti quindi posiziona il game master la scheda diciamo del conflitto la barra della scala sarà vuota perché per adesso non ci sono stati scontri ma la prima cosa da fare è andare a impostare la barra del conflitto la barra del conflitto va impostata in questo caso a numero giocatori gm incluso meno uno quindi che cosa significa che se state giocando in cinque quindi sono presenti tutti quanti personaggi la imposterete a quattro e perché non ho messo villan presente perché il villan che è presente in questa scena non è il villan principale quindi non bisogna impostarlo come villan presente perché l'altro personaggio che è testa di ferro non è il villan principale di questa storia ma è consibilabile quasi come un gregario ora i gregari è chiaro li buttate buttare fuori in qualsiasi scena e magari non ci saranno più il villan invece in un modo o nell'altro tornerà può essere sconvitto solo in alcune condizioni una volta fatto questo il gm scrive un po più chiaro qual è la minaccia corrente che sta succedendo in questo conflitto e a questo punto il conflitto a inizio a turni inizia il giocatore che vuole iniziare chiaramente se non ci si mette l'accordo è sempre il game master a scegliere diciamo chi dovrà iniziare e una volta che che avete iniziato lo scontro ovviamente l'avventura andrà avanti da sola qui vedete tutto il materiale c'è new york ci sono alcune locazioni di esempio messe ma chiaramente ne potete aggiungere altre dove meglio preferite e ci sono poi le schede dei quattro personaggi e chiaramente la scheda del conflitto questo breve modulo vi può servire per giocare velocemente ai got power perché avete visto che per spiegarlo per la scelta dei personaggi non spiegherete più di una trentina di minuti e vi permette di provare e got power sicuramente in una serata riuscirete magari a fare un arco diciamo narrativo completo riuscirete a giocare magari un'intera missione se chiaramente iniziate presto ci vogliono 45 ore e magari grazie a questo riuscite a farvi un'idea concreta su questo gioco di ruolo grazie a tutti